Il lavoro è un tuo diritto L'assistenza sanitaria è un tuo diritto La carta di entità è un tuo diritto L'ISEE è un tuo diritto Il 7 a 30 è un tuo diritto Scegliere è un tuo diritto Non ti fare prendere in giro da chi ti fa credere che ti sta facendo un favore in cambio della tua libertà di voto Il 24 e il 25 febbraio vota chi vuoi, ma vota liberamente